Presidente, questa è un'opera che Giulia Nova attendeva tanto, anche perché si parla di sicurezza. È un'opera che secondo me consente la modernità, questo pezzo di Abruzzo importante, poiché ciò che funziona ed è moderno ha a che fare con la mobilità dell'acqua. Avere una infrastruttura in acqua per la mobilità dell'acqua senza che sia in sicurezza rappresenta quasi una presa in giro. Voglio rivelare che questo intervento su Giulia Nova fa il paio con l'intervento che stiamo portando avanti su Pescara, col gigantesco intervento su Ortona e con l'altrettanto efficientante intervento su Vasto. Noi abbiamo fatto in modo che tutto il sistema dell'economia del mare avesse riguardo, capacità di investimento, poiché fra poco comincia la sfida, la competizione internazionale e non servono le cannizzate di bambù. I porti non possono affidarsi alle canne di bambù. Per questa opera, per questi lavori, qual è l'investimento e soprattutto arriva dopo quale tipo di iter? È un investimento relativo ai fondi FAS di 4 milioni e 2, già programmati dalla vecchia amministrazione regionale. Noi abbiamo continuato questo impegno per Giulia Nova e per il porto di Giulia Nova, la realizzazione di un braccio che ci consentirà di evitare una serie di problematiche circa l'insabbiamento e la sicurezza del porto di Giulia Nova. Per quanto riguarda la tempistica, finalmente dopo tantissimi anni partiamo con questi lavori. Da qui a due settimane inizieranno i lavori, se l'opera andrà secondo come deve andare, la ditta che ha vinto l'appalto ci riconsegnerà l'opera finita alla città da qui a sei mesi, otto mesi massimo. Mi permetto di dire, quando parlo della nostra realtà portuaria, che diventerà un lago il nostro, per mettere in risalto l'aspetto della sicurezza. Ma poi, non per ultimo, va considerato il fatto che questa opera riduta notevolmente l'effetto di insabbiamento che tanti problemi crea porti vicini.